Una sfida che supera qualsiasi confine, anche quello geografico, e che riunisce 191 paesi da tutto il mondo. Si fa squadra per un pianeta più pulito. Il World Cleanup Day, ovvero la giornata mondiale della pulizia, è uno dei più grandi movimenti civici del nostro tempo e si celebra ogni 20 settembre. È un movimento forte e unico, che condivide con più di 60 milioni di volontari il sogno di un mondo senza rifiuti. Anche l'associazione Triplays di Andria ha risposto alla chiamata, organizzando un'azione di raccolta dei rifiuti abbandonati presso la villa comunale. 24 in totale i sacchi riempiti, certo con fatica e sudore, ma sempre con il sorriso. Hanno partecipato oltre 50 persone, tra cittadini, bambini e associazioni. È stato veramente bello vedere questo connubio tra vari cittadini e di età eterogenea. Sono stati raccolti quasi 90 kg di rifiuti. Vogliamo precisare che queste sono azioni simboliche, ovviamente non ci sostituiamo alla vita che si occupa di raccolta rifiuti. Ci sono azioni simboliche appunto a volte a smuovere le coscienze di chi ci guarda o di chi partecipa con noi alla cura della nostra casa, che poi altro non è che il nostro pianeta, per preservare un futuro alle prossime generazioni.